Sapete come usare gli articoli determinativi in italiano? Impariamo a farlo insieme nel video di oggi e rimanete fino alla fine perché faremo un piccolo quiz insieme. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante d'italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo degli articoli determinativi il, lo, la, i, gli, le e l con l'apostrofo. Prima di iniziare però voglio ricordarti che ho una newsletter, quindi se ogni domenica vuoi ricevere dei contenuti interessanti per studiare l'italiano puoi iscriverti alla mia newsletter cliccando sul link qui sotto in descrizione. Fantastico, adesso siamo pronti per iniziare. Prima di tutto devi sapere che in italiano scegliamo l'articolo determinativo giusto in base a tre cose. Il genere della parola, quindi maschile o femminile, il numero, quindi singolare o plurale e anche le prime lettere della parola. Il primo articolo è il, il, che si usa con le parole maschili singolari che iniziano con una consonante. Per esempio, il libro, il libro, il mare, il mare, il ristorante, il ristorante. Come puoi vedere, l'articolo il cambia leggermente anche in base alla parola che abbiamo. La pronuncia cambia leggermente. Per quanto riguarda il mare, il mare è tutto semplice. Ma per esempio, per la parola libro, dato che abbiamo due L vicine, noi pronunciamo il e libro come se fossero un'unica parola, il libro, il libro. Per quanto riguarda il con una R, il ristorante, è un po' difficile dire velocemente il ristorante, il ristorante. Guarda, è difficile. Allora noi pronunciamo principalmente la R, quindi il ristorante, il ristorante. Queste sono delle regole di pronuncia un po' più avanzate, però abituati a questi suoni perché quando sentirai la pronuncia dell'articolo con diverse parole potrebbe cambiare leggermente. Poi abbiamo LO, LO, che si usa con parole maschili singolari che iniziano con S più consonante e Z. Questo perché a noi italiani non piacciono troppe consonanti vicine. Infatti se ci pensate, la Z in realtà non è una consonante, ma sono due, come se fosse D più S, Z, oppure T più S, Z, Z. E dire IL, Z o IL, Z è un po' difficile. Forse non è così difficile, ma a noi italiani non piace così tanto. Quindi ecco perché scegliamo LO che finisce con una vocale. Quindi per esempio LO zaino, LO zaino, LO studente, LO studente, LO spagnolo, LO spagnolo. Queste sono le regole più comuni, ma in realtà noi usiamo LO anche per le parole che iniziano con Tuttavia però le parole che iniziano con queste lettere sono meno comuni, però comunque fanno parte della regola. Poi abbiamo L con l'apostrofo che è condiviso dalle parole maschili e femminili. Iniziamo con le parole maschili, usiamo L con l'apostrofo per le parole maschili che iniziano con una vocale. Per esempio, l'amico, l'amico o l'asino, l'asino. Attenzione, qui pronunciamo tutto come un'unica parola, l'amico, l'asino. Questa è una cosa molto importante, abituati a questo suono. Se io dico l'amico, sto dicendo l'articolo più la parola amico, l'amico. Ora passiamo agli articoli plurali. Prima di tutto abbiamo I che si usa con le parole maschili plurali che iniziano con una consonante. Per esempio, i libri, i libri, i ristoranti, i ristoranti. Poi abbiamo gli, gli. Se non puoi pronunciare il suono della gl, 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 non preoccuparti. Il mio consiglio però è di pronunciare gl come gl, gl e non l, l. Infatti, gl è più vicino a gl che l. Poi, tantissimi italiani non riescono a pronunciare il suono gl. Per esempio, a Roma, molto spesso, non pronunciano gl come gl, ma come gl. E questo succede anche in altre parti d'Italia, come per esempio a Napoli, in Campania. Quindi, se non riesci a pronunciare gli, prova a dire gli, gli. Usiamo gli con tutte le parole plurali maschili che iniziano con una vocale oppure S più consonante e Z. E anche tutte le altre regole di lo, quindi PS, PN, GN, X e Y. Per esempio, gli zaini, gli zaini, gli studenti, gli studenti, gli amici, gli amici. Quindi possiamo fare una piccola osservazione. Il plurale di il è i. Il plurale di lo oppure L con l'apostrofo maschile è gli. Ricorda questo, può aiutarti a trasformare le parole dal singolare al plurale. Ora parliamo degli articoli determinativi femminili. E il primo che abbiamo è la, la, la si usa con le parole femminili singolari che iniziano con una consonante. Per esempio, la scuola, la scuola, la palestra, la palestra. Poi abbiamo L con l'apostrofo che è condiviso con il maschile e si usa con tutte le parole femminili singolari che iniziano con una vocale. Per esempio, l'amica, l'amica. Per finire abbiamo LE che si usa con tutte le parole femminili plurali. Per esempio, le scuole, le scuole, le palestre, le palestre, le amiche, le amiche. Benissimo, adesso proviamo a fare un piccolo quiz. Come vedi qui abbiamo alcune parole e dobbiamo aggiungere l'articolo determinativo corretto. Metti in pausa, prova a fare l'esercizio e io torno tra poco per darti le risposte. Metti in pausa adesso. Benissimo, adesso vediamo quali sono le risposte corrette. Iniziamo da casa. Casa è una parola femminile singolare che inizia con una consonante, quindi la. Poi abbiamo zio. Beh, in questo caso abbiamo una zeta. Quindi per questo motivo, dato che la parola è maschile e singolare e inizia con una zeta, dobbiamo dire lo, lo zio. Poi abbiamo scoiattolo. Scoiattolo. Beh, scoiattolo è una parola maschile e singolare che però inizia con s più consonante, in questo caso s, c, quindi lo. Poi abbiamo uomo. Uomo. Beh, uomo è una parola maschile e singolare che inizia con una vocale, quindi l con l'apostrofo. L'uomo. L'uomo. Poi abbiamo ragazze. Ragazze è una parola femminile plurale che inizia con una consonante, ma ricordiamo che tutte le parole femminili plurali hanno come articolo le, quindi le ragazze. Un'altra cosa però importante è che le parole straniere non hanno un plurale, quindi semplicemente noi capiamo se stiamo parlando di un film o più film semplicemente dall'articolo determinativo. Dato che quindi stiamo parlando di una parola maschile che può essere singolare o plurale, possiamo usare il perché film inizia con una consonante, oppure i, quindi possiamo dire il film, i film. Poi abbiamo viaggi, viaggi è una parola maschile plurale che inizia con una consonante, quindi i, i viaggi. E per finire abbiamo spaghetti, spaghetti. Ora attenzione, spaghetti è una parola maschile e plurale, ma inizia con S più consonante, infatti abbiamo SP. Per questo motivo l'articolo giusto da usare è gli, gli spaghetti. Fantastico! Allora come è andato questo piccolo quiz? Fammelo sapere qui sotto nei commenti e come sempre se hai delle domande puoi chiedermele nei commenti. Se questo video ti ha aiutato a imparare nuove cose in italiano, non dimenticare di lasciare un bel mi piace per supportare il mio canale. E inoltre se non vuoi perdere tutti i video futuri, non dimenticare di iscriverti al canale perché stanno arrivando tanti contenuti interessanti. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia! Ciao! Ciao!